L'ironia e le risate di Uccio De Santis arrivano sul palco delle Puglie, qui a Sant'Agata di Puglia in questa caldissima serata di mercoledì 17 agosto. Lo sciodiuccio è stato come sempre un mix esplosivo di monologhi, barzellette e gag irresistibili, arricchito con canzoni, sigle del Mutù e racconti di vita vissuta, tra i quali ha ricordato la straordinaria amicizia con il nostro grande maestro Tony Sant'Agata. Noi siamo qua a Sant'Agata di Puglia, Sant'Agata a me dice molto, era l'anno 2003-2004 in un programma televisivo dove c'erano dei collegamenti con i vari paesi, le varie città, dai teatri è stata coinvolta anche Sant'Agata di Puglia, non era sindaco Pietro Bove ma è stato il gancio finché avvenisse tutto questo, ed è stato preso da lì, da quella scala, Tony Sant'Agata, del grande Tony Sant'Agata, a quale io vi farei un bel applauso perché ha dato tantissimo alla città di Sant'Agata che io sono Maritiello, assai curioso, da una cabina esco, in dall'altra trase, quando ritorno a... L'hanno accompagnato nella serata, durata più di due ore, Umberto Sardella, Antonella Genga e Giacinto Iucariello, protagonisti delle gang a fianco a Uccio. Bravissimi anche i due cantanti, Gianni Rutigliano e Daniela Desideri Un paese pieno zeppo di persone, tutte qua per il grande spettacolo del Milito Felice di stare lassù E volamo, volamo felice Più in alto verso le mani Allora amici, adesso come se sul palco salissero tre divi dello spettacolo, eh? Non a me l'applauso, ma a loro Eccoli, applauso per loro! Grazie! 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 E giunta mezzanotte Guarda, preciso Ti ricordi? E giunta mezzanotte Si spengono le luci Si spengono le luci E giunta mezzanotte Si ma mo sono le 12 e due già E giunta mezzanotte e due Si spengono le luci Si spengono le luci Si spengono le luci Si spengono le luci Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè, le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza, cicolando il fiume scorre lento, il fiume scorre lento, flusciando sotto i ponti, la luna sprede in cielo. Sono qua, sono qua, sono qua, sono qua, un uomo fra il cilindro, è bello, sarebbe bello un colo, dai! Hai il cilindro per il cappello, due diamanti per la gemella, un bastone di cristallo, la gardena e l'occhiello e il suo candido girello. Un babion, un babion, un babion, di sedia a buon, di sedia a buon, buon lui, buon lui, buon lui, buon lui, buon lui, fino alle 2.90 c'è un buon lui. Un babion, un babion, di sedia a buon lui, buon lui, buon lui. la 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 e sai che sembra? sì, ciao perché i parentesi che stanno andando la più di mezzo secondo me via! nome simpaticone Michele da dove vieni? no, io no franca pifo ti senti però uno dai franca pifo ti senti delicioso che fai delicioso una vita? ho studiato per andare in pensione che studi si fa per andare in pensione? basta seguirti a me? dai, che cosa hai fatto? ma viene che ho aspettato di incontrarti e venire qua per andare in pensione è vero, ma che lavoro fai adesso per andare in pensione? a te? aspirante pensionato aspirante pensionato ma tu prima del vaccino eri così o sei cambiato? un po' eh tu invece che fai nella vita? io sono benzonato sono un ex vigile di Sant'Agata di Puglia tu? e che fa un vigile a Sant'Agata di Puglia? tu cazzo di trapace? ma non fai mapposto e non funziona che gusto c'erano quante molte facevi al giorno? molte molte anche i 500 ah sì è normale se lasciava la macchina è vero? i vieto avevano le molte quanti eravate qua i vigili? eravamo 5 5 e poi c'è uno qua l'altro e... la scala dove si mette in là? non c'è ma quello spazio per 5 vieto no no dove stavi tu? io Donofrio che è deceduto va bene prima o poi anche a te se c'è da acqua lo so che ci devi tantissimo Marino Marino che non sta tanto bene erano due russi l'altro se ne è andato 95-96 e ne siamo rimasti in quattro qui è rimasto un russo solo e ora con l'Ucraina è un casino no? tutti in pensione tutti in pensione qui non ci sono più vigili a Sant'Agata ce ne sono due due? le prime avevate 5 due i due sono più in gamba che valgono per 5 no? più in gamba di tutte e 5 si bravo hai detto benissimo e lo dici tu stesso lo dico io stesso come mai? e perché fanno un po' di tutto tipo? un po' di tutto controllano le strade controllano... basta non sai che è il cazzo dalle foto alle strade tutto il turno a che ore inizia la mattina qua? lo so noi facevamo dalle 7.30 a 13.30 e poi alle 14? questi muri non lo so vabbè ovviamente tu vivi qua lo sai io sto in pensione venti anni e come passa il tempo libero adesso? organizzo gite vado a tante parti ho i figli sposati la tua affoggia ad accadia ma tutti questi viaggi che il cazzo ti fai vedete che stai ti inviglio per amare state da dare una affoggia da cattura ragazzi non è che è ma fatti 14 volte all'urde 5 volte e non è successo niente però niente niente devi cambiare a me giugono ma c'è ma non c'è lo usiamo lo usiamo in quel senso? quali fischietti mi stai usando? eh se dipende una volta a me con chi? con i miei nipoti ci schiaffi ah come cazzo sta crescendo questi nipoti che schietto con i miei nipoti mannaggia sei troppo forte quanti nipoti hai? quattro quattro maschi ehi però la femminuccia ci voleva io non è arrivata non è? voleva la femminuccia per raggiustarla per accarezzarla e tutto accarezzarla invece i maschi ci hanno stampato il bimbo che significa? c'è è pazzesco come la gente sindaco! è vero quello che sta dicendo eh? è bello sappiamo abbiamo conosciuto l'ex vigile chi ha avuto una multa da lui? dai qualcuno di Sant'Agata tu hai avuto una multa da lui? veramente quando? in che caso? te lo ricordi? quello è il mio vg dai dai fammelo andare dai questo è il bimbo questo è il bimbo che volerà l'ipoti dovrà accarezzarla vai da quella che sta in pensione pure tu invece? vieni qua non essere timido che fai nella vita? come conti da altri amici pensionato ah proprio un discorso amichevole diciamo eh? no no a parte gli scherzi e che facevi quando lavoravi? ferrovia ferrovia dove? Alessandria 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 Foggia perché questa è? Alessandria ha venuto a Foggia prima di Alessandria e Foggia il tuo ruolo qual era? ho fatto l'aiuto macchinista sono stato all'ufficio informazioni e mo? e mo stiamo qui quindi ti posso fare la domanda classica scusi devo andare alla stazione dai dai facciamo l'inizio scusi devo andare alla stazione che bello che bello eh che mannaggia a te dai tu vedevi che lavoro facevo dai non è possibile che facevi io studiavo per vedere per andare in pensione ho capito però realmente dai che lavoro faccio? dillo lei non ti chiedo più niente per andare in pensione ma prenda schiappa questa va bene senti che hai fatto a quest'estate? luglio che hai fatto? luglio agosto? luglio zapponeta agosto sant'agra perchè questa scelta zapponeta e sant'agra? perchè mi piace la santa e il mare sono 5 anni che è bandiera blu 5 zapponeta? è vero e poi sant'agra perchè invece? ad agosto? perché c'è un'aria fresca quindi siamo un po' al fresco però caldo siamo al fresco eh questa è una scelta è una politica giustissima caldo freddo e fresco diciamo ma dove vivi tu invece? a foggia a foggia e a foggia torni a settembre si è probabile ma vivi qua proprio c'è la casa qua io tu con chi stai qua tu? io mia moglie mio genolo mia figlia e un nipotino bellissimo tu invece quando vai in ferie dove vai? io non vado mai in ferie io andiamo nei santuari vabbè capito però una canza non la fa dai non andiamo 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 facciamo qualche gita Ischia Capri poi facciamo i santuari San Gerardo Pompei no San Gerardo sicuro io l'ho fatto spesso San Gerardo è importante San Gerardo Pompei e questo facciamo l'Urda hai detto quante volte? 14 volte e perché? una volta all'anno c'è una professoressa di Sant'Agata che organizza noi ci iscriviamo anche io ho fatto il pellegrinaggio a Lurda a settembre quello nazionale bellissimo il 30 luglio siamo partiti siamo rientrati non è stato l'agosto il 30 luglio siamo partiti il 30 luglio siamo partiti il 3 agosto siamo rientrati è vero c'è la gente? si c'è la gente è bellissima dica agli amici che c'è bellissima speriamo che riescano ad andare tutti quanti ma è una cosa stupenda va bene allora ragazzi io adesso voglio fare una cosa semplicissima molto un premio ciò un bel ricordino che vogliamo dare però dovete essere molto veloci questa è una cosa che io facevo di solito anche nei villaggi faccio tre domande non dite mai sì e no è una cosa semplicissima io ti chiedo un esempio sei contento di essere qua? molto sei sposato? certo conosci il signore? poco la parola sì e no non la devi mai utilizzare vediamo che esiste di più mettiti qua avanti partiamo da te parte il cronometro via sei contento di essere qua? certamente sei da solo no? in campaniera di qualcuno? dei parenti? parenti parenti, figli, ne hai? due due sono qua no? una è casa sua l'altra è casa mia e non sono venuti oggi no? sono fuori sono in giro in giro e poi c'è la pensiera però mi sembra di no molto bravo è stato molto bravo ha resistito comunque i suoi diciotto secondi no che diciotto? 47 secondi tocca a te attenzione via tu quindi stai in pensione da parecchio tempo da parecchio tempo si sta bene in pensione si ma a Sant'Agata non è la prima volta che vieni no? ci sei stato qualche volta si? eh? 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 mi conoscevi? si qualche volta qualche volta l'hai visto? sei qui da solo no? no compagno tua moglie? eh? 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 ma tu sei suonato lo strumento? sei suonato lo strumento? adesso no non hai suonato ma puoi suonare adesso no? perché mai? perché mai? meglio di no eh? eh? bravissimo applauso per lui ragazzi oh assistenza na 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 pischietto vieni qua pischietto dove? sei un bravissimo sei stato troppo da attenzione ne si e ne no ehi? pronti? via tu sei andato quattordici volte all'urte si cioè come dire however non è no la nulla la multa cioè non dove dire si e no hai capito? la parola si non la devi dire eh? sei andata all'urte!! certo! Anzi, potresti rispondere con la mia stessa frase cambiando il tono, per esempio sei andato a Lourdes, sono andato a Lourdes, hai mangiato, ho mangiato, sei contento, sono contento, capito quello che dico io, ripeti tu, pronti, via, allora, tu hai mangiato stasera, si? Sì, mi sembra, invece a settembre vai a Lourdes, sperando che qualcuno si possa cambiare, a Modena ti possiamo ospitare noi, quello che vuoi portare a Modena o no? No, io voglio andare a Foggia, non è possibile che non ci credi, no, 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 la parola sì, non la devi dire, allora io ti chiedo, sei andato a Lourdes, non dire sì, certo, allora facciamo, pronti, via, tu conoscevi lui? Sì, certo, è simpatico? Sì, certo, hai visto quanta gente? Sì, certo, e non devi dire sempre certo, e dai! Se dici certo, poi devi cambiare, dai, ultima chance, perché qua il premio c'è ed è bello, via! Belle le luci dell'illuminare, vero? Certo! Tu stai da vent'anni in pensione! Esatto! Guarda, era bello quando si lavorava, eh! Era molto male così, ma l'età sale per cui... Esatto, quindi stai così, e sei rimasto a Sant'Arna da tu! Sì! Non è che possiamo resistere più di 5 secondi, ragazzi! Non è semplice, la vita è la... Allora, amici, vediamo un po', vediamo chi secondo voi dobbiamo premiare, perché il premio c'è, lo voglio dare, è carino! Allora, se vi è piaciuto lui, applauso per lui, o a lui, o a lui, o a lui! Non potete votare tutti e tre, eh! Se vi è piaciuto l'amico, che non sappiamo niente di questo sistema qua, applauso per lui! Se invece vi è piaciuto l'amico, che si chiama Salvatore, applauso per Salvatore! Se invece... Michele! Se invece vi è piaciuto Michele, applauso per Michele! Viene reviato, stranamente, quello che ha resistito di meno, però, eh! Ha resistito di meno! Michele! Applausi! Michele, sei simpatico! Ma sei già salito sul palco con me qualche volta, o no? È la prima volta! Penso di sì, negli anni... all'inizio del 2000! Ehi! Eh? Quando sei venuto le prime volte a Sant'Agata? Le prime volte sono iniziato, non al 1995! Manca esistente Sant'Agata! Non esistava, perché si... Tutta la campagna era qua, entrerravo io, così! Con le mie mucche, le cose... E poi è nata Sant'Agata, è vero? E qua stavamo io, tu e... E vi è troppo... E basta, in tre la fanno! E così, più o meno, una cosa del genere! Di troppo a volte! Allora, abbiamo una band straordinaria! Qual è la canzone che ti piace di più a te? Volare! Quella che hai cantato tu! Penso che una sera così non ritorni mai più! A te che canzone ti piace di più? Azzurro! Tu che sei azzurro, invece! Come il principe! Che canzone! Volare, vai! Che canzone! Che canzone non ritorni mai più! Mi dirigere le mani e le braccia di più! Poi al libro riso e mi vola lento la vita! E cominciavo a provare il cielo di tutto! Bravissima! 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 Volare, volare... E stiamo io in biblioteca per piacere! Oh, non ho scommato! Oh, nel blu! Dipinto! Blu! E non c'è più stare lassù! Volavo, 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 volavo! Fino a quando volavo, 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 volavo! Volavo, volavo! Volavo, freddi il fischietto, freddi il fischietto! Volavo, volavo, volavo! Signori, un applauso a tutte e tre! Prego, dammi il fischietto, dammi il fischietto! Guarda che cosa ti sto dato! Una maglietta con una barzelletta scritta del Voodoo su questa maglietta! Che cosa aspetta? Vieni qua qua! Mamma, già ti vedo a nord con questa maglietta! È una dei nostri cavalli di battaglia, questa qua! Questo signore qua che va dal capofficina! Salve, sono il nuovo taglialegna! Il nuovo taglialegna! E sono venuto qua, mi hanno detto di ritirare la tuta! Allora, voi rispondono, che taglia? È la legna! Storica, questa qua! Sei contento? Grazie, maestro! Ma è, prego, professore! Questa è per te, ma la cosa bella è che vi becchiate l'applauso di questo pubblico! Tutto per voi! Grazie! Allora, allora... Eh? Anche a me, sempre un piacere, veramente! Veramente, signor vigile! Tu invece, mi hai detto che fai? Ferrovie! Ferrovie, ferrovie! E tu, dai, regalaci questa! Adesso vado a andare in pensione! Eh? Adesso la persona come si fa per andare in pensione! Soprattutto un amico che sta là in fondo! No, voglio andare a fonda questa qua! Adestro! Cioè, chi lo sa, chi me lo dicesse, che fa? Che cosa fa? Adestro! Eh? Adesso non si fa per andare in pensione! Ecco, adesso magari ci vi piace! Ma, ma, senza volete! Applauso! Grazie! Ciao! Grazie, grazie! Lavoro all'Ips! No, no, no! Che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Che troviate! Che troviate! Che troviate! Hai detto che ti piace quella signora che viene da Modena? Eh Buggi, ma l'ho inventato io! Stai a non cadere, stai tentando a non cadere! Tra la noia e il caldo infernale Ci voleva un'idea geniale Tra gli amici qualcosa da avere Ci piaceva l'idea di partire Così un giorno allora ho pensato Quasi, quasi, andiamo in tv Le risate, le amici e i malattie E la mia vita ormai è puluta E su, e su, e giù, e giù E su, e giù, vado girando sempre più E qui, e là Per paesi, mare, monti e città Lui lupi lupi, picca luce, bebe La sigla con boccava con c'era e lucce Forse è bello lupi ma mor Luce, le bocche e più bella Insisti, insisti E non vi amo Bravo Grazie ancora Alla prossima Ciao 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 Ciao